I've been around the world Presidente, si avvicina la data del Carnevale dei Bambini, qual è il programma di entrambe le giornate? Sabato 4 e domenica 5 giugno, il secondo appuntamento dell'anno con il Carnevale di Fano, dedicato ai bambini. Sabato 4 sarà con noi la storica musica ravita ovviamente, ma ospiteremo anche il corpo bandistico di Cartoceto che quest'anno suonerà per il Carnevale di Fano insieme alla musica ravita in alcuni momenti e in alcuni momenti si separeranno per andare ad animare il centro storico. Una sfilata con dei carri di seconda categoria e tutte le mascherate delle scuole appunto nel progetto Scuola Carnevale che ormai da tanti anni portiamo avanti. Ci saranno dei laboratori di cartapesta, giochi, divertimento, musica per tutti i bambini e i ragazzi dalle 17 alle 20 circa. Domenica invece la piazza diventerà una piccola awards ed Harry Potter sarà qui a Fano con noi. Quindi due giorni di divertimento, divertimento sempre intelligente. Vi aspetto e poi ci rivedremo a ferragosto per il Carnevale in Sassonia. Grazie a tutti.